cari amici spettatori benvenuti siamo di nuovo qui dallo splendido studio astronave del gruppo editoriale distante di rosso vestito e noi ci trasferiamo in Lapponia noi ci trasferiamo direttamente nella casa del babbo natale barese benvenuto ciao buonasera a tutti allora io non posso chiamarti babbo natale barese per tutto il tempo posso dire rivelare la tua vera identità ovvero fare come batman quando diceva a tutti di essere bruce wayne quindi diamo il benvenuto a Nicola figliuolo che ci ha mandato qui il generale figliuolo naturalmente no scherzo è un caso è un caso di omonimia molti di voi probabilmente sapranno già di chi e di cosa stiamo parlando io mi sento di dire prima ancora di iniziare questo nostro dialogo a tra le righe qui per antenna sud gruppo editoriale distante mi sento di dire grazie Nicola per tutto quello che fai perché nel percorso di vita di ogni persona purtroppo molto spesso non ci si guarda mai alle spalle e tante volte non si guarda nemmeno cosa succede ai propri lati non si guarda al dolore di tante persone e ciò che tu fai pur avendo un lavoro che mi viene da dire ironicamente normale nel senso che sei un lavori presso il comando scuole dell'aeronautica militare di Bari tu ti occupi anche di una cosa bellissima che è donare un sorriso e rendere più piacevole quello che in pochi forse conoscono che è il vero calvario della vita vedere dei bambini che non sorridono vedere i bambini che hanno delle grandi occhiaie sotto gli occhi e tante volte regali quel sorriso che dovrebbero regalare magari le istituzioni e dai quella pacca sulle spalle a quei genitori che di certo non ne hanno colpe quindi io prima di questa intervista semiseria volevo dirti semplicemente grazie perché attraverso il tuo lavoro ti posso garantire che un ragazzo normale come me si sente piccolo piccolo perché a volte c'è una codardia di base si dimenticano le cose invece tu ce lo ricordi ogni giorno con grande impegno e senso civico quindi grazie prego figurati lo faccio ormai da dieci anni questo questo diciamo interpreto questo ruolo mi rendo conto che insomma non tutti poi possono anche resistere a certe condizioni di stress psicologico perché entrare in un ospedale e trovarsi di fronte genitori e i piccoli in sofferenza non è proprio una cosa molto semplice da affrontare il mio papà che non c'è più mi diceva quando sei triste ricordati che devi sorridere perché se sei triste ti porto nei reparti oncologici pediatrici e ti faccio vedere chi sono veramente quelli tristi ora posso dire che questo è uno dei più grandi insegnamenti che ho ricevuto e ti domando anche nicola quanta forza ci vuole nel ricordare i dimenticati perché noi a volte dimentichiamo quel mondo eh beh sì e purtroppo ripeto non tutti hanno la forza di affrontarlo quel mondo molti non lo so anche perché hanno avuto esperienze personali con genitori o dei parenti bimbi piccoli nipotini e quindi c'è un rigetto da questa diciamo vicinanza ai bambini eh ti dirò che anche io ho avuto dei problemi con eh mio figlio e abbiamo li abbiamo affrontati e quindi forse questo mi ha eh diciamo ancora di più aperto ecco ora voglio essere un po' barese a barese mi ha aperto la schiena no a questo tipo di 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 situazione e quindi poi l'ho affrontata diversamente eh è ovvio che insomma poi è da vedere volta a volta perché anche a me è successo di rimanere bloccato davanti non tanto a un bambino che eh aveva un effetto sulla mia persona ma sulla mamma che si mi abbracciò e iniziò a piangere ovviamente mi 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 scompensò un attimo però poi abbiamo recuperato e abbiamo donato il famoso sorriso che dicevi tu a quel piccolo e quelle quei quei momenti che trascorrono in ospedale eh scaricano eh spero di essere utile ai bambini insomma d'altronde sono dieci anni e ho avuto dei riscontri dai genitori eh favorevoli a questa cosa e che mi spronano a farlo e a farlo ancora finché eh potrò e poi più divento vecchio e meglio è esatto perché viene meglio il babbo natale che in te però io ti vedo particolarmente nonostante tu lo faccia con veramente tanta leggerezza nel senso tu riesci a non trasmettere magari la sofferenza che vedi eh io ti vedo già un po' come dire eh sin troppo concentrato su questo dolore io vorrei oggi sorridere delle cose belle che fai e ho una galleria fotografica che prego la regia di mandare e magari parleremo anche della prossima iniziativa perché in quelle foto si vede tutto il grande lavoro che fai le grandi donazioni che possiamo fare tutti me compreso e soprattutto notiamo il tuo sguardo veramente felice nel vedere un bambino che ti sorride tu vedi queste foto e vedere questi bambini che vengono diciamo allietati dalla presenza di babbo natale è veramente un colpo al cuore è veramente un colpo al cuore non so se tu ti ricordi di preciso la scena di questa bambina che ti tira la barba ma il tuo sguardo è tutto un programma e beh la barba originale ha il suo effetto sul bambino perché purtroppo ho per fortuna insomma c'è un po' di inflazione nel periodo natalizio di babbo natale però insomma ce ne sono alcuni che sono veramente improbabili con delle barbe che già chiamarla barba è un'offesa continuiamo a mandare le foto ragazzi continuiamo a mandare le foto perché veniamo anche nicola scusa se ti ho interrotto alla grande attività non solo umana ma anche economica che tu vai a svolgere perché sei stato di grande aiuto soprattutto per quelle mamme che ad esempio non avevano dove dormire dove riposare per stare vicino ai loro bambini del reparto di oncologia ci vuoi raccontare una delle più belle vittorie che ha la tua chiamiamola associazione solidaristica la tua attività solidaristica per favore sì allora devo fare in effetti un cappello e io sono il capitano di una squadra mi vesto di rosso e faccio il front end della dell'associazione però dietro di me ci sono comunque degli amici c'è mia moglie che è fondamentale nel nell'aiuto e nell'esecuzione di tutto quello che si fa per l'ospedale ovviamente il bambino natale non poteva essere diviso in tre e quindi mi dice diciamo che mi sono sacrificato ma però ci sono degli amici colleghi che da anni mi seguono mi aiutano e spero che mi aiutino ancora per il futuro quello che dicevi è l'attività che abbiamo svolto l'anno scorso in realtà potrei dire smart working perché l'anno scorso poi per il problema covid che ho avuto anche io proprio nel periodo natalizio poi l'ironia della sorte a distanza comunque sono riuscito a canalizzare tramite queste amicizie dei grandissimi donatori perché questi sono da ringraziare prima di tutto prima di me perché io faccio il collettore di una di una serie di persone che perché per lavoro per diversi motivi non hanno neanche il tempo di di organizzarsi e non sanno come fare del bene lo vogliono fare si impegnano tantissimo anche economicamente mettono diciamo sul piatto dei dei fondi diciamo notevoli ecco voglio dire ci sono stati degli amici che hanno fatto delle offerte veramente sostanziose ecco raccontiamo raccontiamo Nicola Nicola raccontiamo anche cosa hai fatto perché è importante anche dare la notizia su tutto quello che hai realizzato assolutamente assolutamente ripeto quello dell'anno scorso è stata abbiamo ripreso tutte le 15 poltrone letto che sono che erano in ospedale ormai da tempo che specialmente poi con appunto il problema covid con l'usura i continui lavaggi disinfestazione disinf... no... ma Bonatane può sbagliarsi non ti preoccupare sì 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 scusami sono emozionato perché hai una barba più lunga della mia solo che un altro colore vabbè adesso non facciamo battute non facciamo battute che si prestano a chissà che vai vai vabbè se vuoi farmi da controfigura ti potrei proporre... sarei molto credibile nel frattempo io prego la regia di mandare tutte le foto che abbiamo in archivio che sono proprio tante e poi parliamo con l'Iban dell'ultima iniziativa quindi continua a raccontare mentre vediamo le tue foto quindi l'anno scorso 15 poltrone un anno e mezzo fa abbiamo comprato degli attrezzi degli attrezzi di musicoterapia particolarissimi che abbiamo donato grazie alla diciamo l'intervento del musicoterapeuta che lavora all'interno del reparto e io in questo mi diciamo mi sono voce dire gemellato con la pleti che sono 40 anni che sono all'interno del reparto e loro sono quelli che mi hanno diciamo invitato a partecipare a queste manifestazioni e sono diventati il loro babbo natale ufficiale la pleti ripeto sono 40 anni e sono un'associazione molto diciamo affidabile dal punto di vista operativo e grazie a loro poi io chiedo ogni anno quali sono le esigenze che non si possono diciamo sostenere con i fondi statali ecco perché per dire le playstation non è che si possono comprare con un capitolo del dello stato e noi abbiamo comprato nove playstation in realtà le abbiamo comprate le abbiamo montate le abbiamo installate dopo delle nostre nuove si sono si sono diciamo susseguite altre donazioni di altre associazioni quindi siamo arrivati a coprire tutte le 15 stanze con le playstation prima ancora abbiamo comprato delle attraziature per sempre per la parte di musicoterapia apparecchiature elettroniche ipad ipod insomma ogni anno cerchiamo di differenziare chiedendo sempre a loro qual è l'esigenza reale del momento perché l'anno scorso quella delle potenze non immaginavamo poteva essere un'esigenza invece è uscita diciamo così abbiamo siamo riusciti a sopperire questa carenza facendo la consegna di 15 e ce ne sono ancora due veramente che non erano previste in consegna prossimamente nicola io so che c'è una nuova avventura e noi metteremo naturalmente anzi probabilmente già lo vedete io lo vedo in bassa frequenza naturalmente metteremo anche l'iban e i riferimenti per poterti dare una mano che poi significa dare una mano a questi bambini qual è il prossimo obiettivo per rendere più felici questi ragazzi e ricordiamo che tutto ciò che fai è interamente devoluto all'acquisizione di materiale che serve per l'ospedale oncologico non c'è nulla che venga trattenuto è un dare per dare immediatamente a loro qual è il tuo nuovo obiettivo e come possiamo darti una mano tutti assolutamente quello che facciamo è tutto anzi io con i canali social cerco di dimostrare quanto più possibile che chiunque dona da un euro a mille euro vede dove va a finire la sua donazione e quindi rendo noto quello che sono le attività che poi vengono svolte quest'anno ci hanno ricordato che a ottobre entra il nuovo sistema di codifica dei canali televisivi e quindi ci hanno chiesto la cortesia o il regalo di poter cambiare le televisioni che hanno all'interno del reparto non solo per adeguarle agli standard diciamo di trasmissione nuovi ma per avere queste funzionalità di televisori smart smart tv loro hanno delle connessioni internet comunque già disponibili quindi avere una smart tv è sicuramente più congeniale alla degenza di nel reparto di anche parecchi giorni considera che in quel reparto ci sono da bambini di pochi mesi a ragazzi fino a 18 anni ho letto proprio ieri mattina un posto del papà di un bimbo che purtroppo non ce l'ha fatta di 14 anni che mi diceva che avrebbe avuto grande ritorno se avesse avuto insomma un televisore smart per poter utilizzare questi insomma per perdere tempo perché fondamentalmente stai in ospedale in una stanza per sei sette mesi si deve inventare di tutto di più la playstation è una invenzione per fargli perdere tempo Nicola tu stai dicendo una cosa che deve far pensare anche a tutta la pletora di ignoranti che si lamentavano per il fatto siamo chiusi in casa non possiamo uscire durante il periodo del covid io volevo prendere le parole di Nicola semplicemente non per redarguirli ma per cercare di informarli che ci sono dei bambini dai due giorni di vita forse anche meno perché c'è anche sono anche bambini che nascono purtroppo con questa patologia cioè sono bambini che muoiono sono fetiche non vedono mai la luce e ci sono ragazzi di 14 15 16 anni che sono all'oncologico di Bari e non possono uscire ma non possono uscire non perché c'è il covid non possono uscire perché hanno delle malattie tumorali nella maggior parte dei casi già in uno stadio irreversibile hanno molte metastasi hanno difficoltà anche a stare troppo seduti lo so che in televisione dire certe cose poco popolare ma sapete meglio di me che una lamentela perché non si può uscire gridando alla libertà è un'offesa mostruosa per tutti quei bambini che stiamo vedendo in foto e di cui Nicola ci ha raccontato che hanno difficoltà a stare troppo seduti o stesi e non si possono nemmeno lamentare anche se hanno le piaghe anche se hanno dei dolori perché purtroppo da quella stanzetta non usciranno mai e non avevano una casa a disposizione molto grande con la playstation con la smart tv con tutti i comfort con riscaldamento quando si vuole quando non si vuole quindi invito tutti a riflettere a farsi un giro magari insieme a Nicola per migliorare la purezza del proprio animo e per ricordare a tutti che quella mancanza di libertà di chi è rimasto a casa durante il covid è un'offesa per tutti quei bambini che da quella stanza non escono perché purtroppo molti muoiono e Nicola che è un po' emozionato ed è invece un ragazzo e ho dato del ragazzo quindi solo per questo insomma dovrebbe essere felice è proprio questo che sta cercando di dire cerchiamo anche di ricalibrare le nostre necessità e cerchiamo non di fare beneficenza per pulirci la coscienza ma per capire che quei bambini non sono dei bambini cattivi sono dei bambini sfortunati e quello che è capitato a loro purtroppo può capitare a tutti dobbiamo avere il coraggio di capire che ci vorrebbero dieci cento mille come Nicola figuolo che si vestono da babbo natale che dentro quando vanno in quelle stanze forse si commuovono e cercano di non farlo vedere ecco Nicola io vorrei a tra le righe dare questa immagine di te cercare di capire che dietro un sorriso dietro una barba dietro la voglia di ridere scherzare c'è un dolore che tu porti dentro il grande de andrè diceva chi viede la vita e ben cambio una croce io penso che anche chi fa sorridere come te in quel reparto abbia una croce grande perché poi quando si torna a casa è difficile dimenticare quel volto intanto le foto vanno avanti e è comparso l'inban e tutto tutto quello che si può fare per aiutarti e che racconta il tuo grande lavoro cosa pensi di tutto quello che abbiamo detto e che stiamo e che stiamo dicendo anche sul concetto di libertà beh considera che in quel reparto appunto come dicevi tu a parte la avere le quattro mura e non poterle superare anche la famosa mascherina è sempre stata un oggetto assolutamente da utilizzare per motivi ovviamente di protezione perché sono bambini molto fragili quindi anche il raffreddore stupido non il covid potrebbe danneggiarli in maniera diciamo fuori dalla norma e anzi a riguardo ti potrei dire che sono riuscito perché io poi insisto e rompo le scatole incluso antena sud ed ho chiesto un supporto a un'azienda di perugia per avere delle mascherine trasparenti rigide che forse si sono viste in televisione le hanno usate dei giornalisti questo inverno nel periodo del covid proprio per favorire il diciamo allontanare la separazione perché dietro una mascherina classica chirurgica fp2 come la vogliamo chiamare non si vede se tu stai ridendo se tu stai facendo una smorfia la mascherina trasparente ti protegge però fa vedere le labbra e rende meno distante da chi si sa di fronte e quindi per dire la mascherina che noi odiamo io il primo quanto prima posso me la tolgo lì dentro non è possibile e sono riuscito anche in questo avere una donazione di mascherine che prossimamente porterò in ospedale e donerò ai bambini ma non anche la donna nicola la donna l'azienda faist ecco faccio anche il nome perché è giusto che sia fatta che le produce e me le hanno regalate per poterle poi rendere a chi appunto in questo momento continuerà ad utilizzare anche dopo speriamo siamo a breve che finisse che finirà questo questo periodo di diciamo di crisi pandemica che chiamavano così facciamo le le persone più crisi pandemica nicola c'è un c'è una donazione che ti è rimasta nel cuore che non ti aspettavi che ricevuto e soprattutto che ha riempito il cuore di questi bambini e ci tengo a precisarlo perché la verità è la medicina più potente il lavoro di nicola perché è un lavoro è un lavoro emotivo molto forte serve probabilmente nella maggioranza dei casi a rendere più felice a regalare gli ultimi sorrisi ad un percorso di vita che nella maggior parte dei casi i genitori stessi lo sanno va ad esaurirsi quindi pensate allo sforzo che viene fatto non solo per cercare di salvare una vita da parte dei medici ma per cercare di regalare un sorriso a quei bambini i cui genitori sanno già quale sarà la loro fine cioè per me è un messaggio magico d'amore è la cosa è la cosa più bella c'è una donazione che ti ha colpito grandissima che non ti aspettavi ma intendi grandissima a livello emotivo o a livello economico sia a livello emotivo che economico perché vanno entrambe bene allora a livello emotivo è stata una donazione di 2 euro che mi ha fatto una persona devi sapere che io per racimolare soldi in questi anni ho fatto anche diciamo ero stanziale davanti ai centri commerciali e facevo le foto con i bimbi e da una donazione assolutamente libera si racimolavano i soldi per poter poi realizzare quello che abbiamo detto cioè le playstation non è che si sono comprate con i soldi caduti dal cielo una delle cose più simpatiche è venuta una persona che era visibilmente diciamo non un abbiente ecco diciamo così venne io inquadrai la famiglia aveva 3 4 bambini e gli disse vabbè facciamoci le foto non ti preoccupare non è obbligatoria l'offerta e ci facciamo le foto finite le foto si allontanarono vedi la persona che tornò scappando indietro con 2 euro mi disse cieni vatti a prendere un caffè perché lui non voleva non voleva diciamo approfittare della della mia disponibilità a fare la foto anche senza donazione non so cosa fece se ricercò nella borsa della moglie questi due euro però lo vedi tornare scappando o se li rubò quello che era in fila non lo so non lo so non era non era una famiglia assolutamente però torno con i due euro mi disse vatti a prendere un caffè come se sai io lo faccio ero lì per e ce ne fossero mille e ce ne fossero mille che non hanno neanche capito esatto no dico ce ne fossero mille come nella parabola no della vecchietta che va a lasciare tutto quello che ha che molto meno della grande donazione invece di chi può permetterselo ma a proposito di grandi donazioni qual è la grande donazione che invece ti è rimasta nel cuore ci sono state delle delle amici che hanno hanno partecipato con forti forti somme devo dire fra questi c'è anche una donazione che abbiamo avuto da da personale dell'ARPA puglia in ricordo di un loro dirigente che purtroppo era di partito proprio a causa di una malattia oncologica e avevano fatto una raccolta all'interno del personale dell'ARPA e due anni fa siamo riusciti a fare a comprare un'apparecchiatura di musicoterapia che costava circa 2000 euro una cosa molto strana veramente l'abbiamo comprata dalla germania figurati siamo riusciti a comprare questo attrezzo con parte della donazione che era quasi di quella cifra più diciamo dei fondi che avevamo noi in casa abbiamo siamo riusciti a coprire questo questo acquisto che adesso è disponibile lo usano nel reparto appunto con il dottore che ci ha indicato anche qual era l'attrezzo da prendere che non è che qui conosciamo le apparecchiature si chiama copper tambura che sembra che sembra il nome di una rivista che sembra il nome di una diciamo di una rivista cecoslovacca invece è una cosa è una cosa importante da berlino nicola noi continuiamo a vedere l'iban la regia lo continua a mettere a ricordare come fare volevo anche dire una cosa che non vorrei che venisse scambiata per socialismo spinto ma io sai cosa penso allora in una scuola media o in un liceo quante sezioni ci sono 10 12 ogni classe lo dico a chi ci segue sono anche molti ragazzi può essere composta da 25 persone bene un euro a testa un euro un euro a testa si raccolgono i soldi si fa un bonifico e si raccolgono delle somme importanti ripeto un euro a testa fate il calcolo 25 persone a sezione 10 sezioni può sembrarvi una fesseria ma sono dei soldi che possono contribuire all'associazione di nicola a nicola figliuolo e a tutti gli elfi perché lui è dotato di elfi che lavorano gratuitamente di regalare un sorriso a questi bambini e come diceva charlie chaplin quando cale il sipario nessuno sorride più e nessuno si ricorda più cosa è successo io mi rivolgo veramente a chi può ma anche a chi non può regalare un sorriso ad un ragazzino che può essere tuo figlio tuo fratello tuo nipote ti rende migliore parliamo veramente di cifre simboliche nicola non ha mai parlato di cifre minime io sto parlando di un euro ad alunno nella scuola penso che sia un regalo bellissimo e regalare un televisore con il quale vedere una partita del bari ad un ragazzino che non si sa che fine farà purtroppo per una malattia bastarda infame io penso che sia un regalo bellissimo degno di quel santa claus di quel san nicola che oggi vestito di rosso nicola figliuolo che ci ha mandato qui il generale figliuolo non lo possiamo dire non è vero naturalmente uno scherzo ecco io penso che sia un dono bellissimo nicola ricordare che il vero babbo natale come il vero san nicola è di bari e quello di bari fa cose belle quindi complimenti e io spero di aver smosso un po anche la mia di coscienza che ripeto io purtroppo ho un'avversione per tutto ciò che riguarda il dolore per esperienze familiari all'interno dell'ospedale ma sarò assolutamente presente personalmente e spero che puntate come questa servono non solo a fare colore a raccontare un sorriso bello come quello di nicola ma servono a capire che c'è una attività ingente che aiuta soprattutto i genitori familiari di quei ragazzini nicola vogliamo sottolineare in pochi secondi proprio questo tu hai detto di esserti commosso non tanto per il dolore del bambino che ti fa commuovere perennemente ma ti sei medesimato nel dolore di una mamma ecco io non ho da aggiungere altro perché sennò viene da piangere a me eh sì purtroppo non è quello che diciamo traspare meno perché la mamma cerca di camuffare anche nei confronti del bambino il dolore ma poi io li ho viste quando i bimbi sono isolati diciamo sotto in terapia vederli in quei momenti insomma non è non è proprio semplice la reazione è vero io devo dire che avendo rapporti pure con il primario del reparto mi hanno mi hanno sempre assicurato che loro ovviamente lo stanno facendo in maniera non egregia di più stanno migliorando moltissimo le percentuali di riuscita delle cure siamo arrivati sicuramente non vorrei dire castranerie ma l'ultima volta ricordo che eravamo sull'ottanta per cento di probabilità quindi significa che su dieci bambini che trovo a natale ahimè due eh sono destinati a non ritrovarli che però è un numero diciamo molto molto alto rispetto a quello che succedeva venti anni fa trenta anni fa che si parlava del 50 per cento quindi la medicina gli scienziati i dottori di Bari sono veramente eccellenti e fanno non dico miracoli perché insomma per quelli c'è c'è chi è preposto però si impegnano ad avvicinarsi sono veramente bravissimi dottori anche le associazioni ci sono più associazioni è la pleti è quella che diciamo mi interfaccio però ci sono anche le altre che loro ognuno per il suo settore specifico aiutano i genitori aiutano i bambini gli infermieri io li conosco tutti per nome mi conoscono per nome quando mi vedono entrare nel reparto loro non sanno neanche che mi chiamo nicola mi chiamano babbo e basta perché poi insomma c'è questo continuo entrare uscire le poltrone le playstation le conosco dall'infermiera all'ultimo dei passanti di quelle parti e ripeto i genitori quando sono soli capita di vederli lì capisci la sofferenza anche perché anche perché lasciatemelo dire esisterà pure qualcosa di più grande di noi io spero che sia concentrata su queste famiglie perché non merita nessun bambino di soffrire ci vuole ci vuole veramente uno stomaco per non avere un risentimento quando si vede un bambino che sta male nicola ti ringrazio molto perché quello che fai è la dimostrazione anche che il tuo lavoro vero cioè bruce wayne ovvero dipendente dell'aeronautica militare comando scuole quello meraviglioso sul lungomare è anche la dimostrazione del grande cuore che hanno i militari e i civili che lavorano anche al nelle forze armate ed è una cosa bella anche ricordarlo grazie di cuore a te a tutto ciò che farai noi ci tenevamo ad essere presenti perché sono questi i messaggi che a mio avviso deve diffondere il servizio pubblico e noi vogliamo raccontare questo raccontare che c'è nicola figliuolo a bari che usa il 95 per cento del suo tempo libero per regalare sorrisi a bambini che non sa nemmeno purtroppo se rivedrà l'anno successivo un abbraccio grande a te ai tuoi elfi a quel camino bello che con questo caldo non so come fai c'è anche le mani di topolino come avete visto grazie alla regia all'assistente di studio all'assistente di produzione al mio editore mino distante soprattutto a voi che rendete tutto questo possibile io mi tolgo la cravatta perché anche oggi abbiamo portato a casa i tre punti una vittoria con un bellissimo tema alla prossima